Siamo subito a definire qual è il problema, che cosa si intende con il problema del trolley. Si intende una serie di esperimenti di pensiero, nell'ambito dell'etica e della psicologia, che coinvolgono situazioni dove un agente si trova ad affrontare due esigenze morali conflittuali, nessuna delle quali premare sull'altra, quindi ecco il dilemma etico, e che si esemplifica, in questo caso, nel sacrificare una persona per salvarne molte. Ora, le opinioni delle persone sull'etica di ciascuno scenario sono sensibili a dettagli che sembrano irrilevanti per il dilemma astratto. Il problema di formulare una teoria che potesse essere coerente con i differenti giudizi che sorgono nei vari scenari, si è fondata per la prima volta dalla filosofa Filippa Futh nel 1967. Oltre ad essere una notevole filosofa, questa è anche famosa per essere figlia, anzi, scusate, nipote del presidente degli Stati Uniti, Grover Cleveland, che è stato, diciamo così, nella fine del XIX secolo, c'è avuto due mandati. Insomma, era un personaggio famoso. Allora, questo problema fu denominato il problema dei trolli da Judith Jarvis Thompson, un'altra filosofa famosa degli anni 70, in un articolo del 76 che ha avuto una grande rilevanza. Ora, prima di tutto vorrei, diciamo così, esprimere il fatto che questi problemi dei trolli hanno subito delle critiche. Allora, diciamo, per una sorta di parcondicio, diciamo, quali sono, diciamo, se non altro da un punto di vista teorico, le critiche che vengono posti a problemi di questo tipo. Per esempio, si critica il fatto che lo scenario è troppo estremo e sconnesso a situazioni reali per essere utile o adeguativo, oppure che il freddo calcolo fatto su situazioni ipotetiche dove ciascuna alternativa risulta nella morte atroce di una o più persone e privo di empatia umana, e così via. Ora, l'utilizzo che viene fatto, e a cui io mi riferisco, riguarda sostanzialmente quali sono le problematiche legate allo sviluppo del nostro cervello, e come noi facciamo dei giudizi etici in maniera errata, qualche volta. E quindi, diciamo così, sono per questo motivo più che accettabile. In generale, non voglio fare un rissoconto decontestualizzato dello sviluppo del problema del trolli, ma vorrei analizzare quali sono le conseguenze morali e psicologiche che ne derivano. In particolare, vorrei evidenziare come i nostri settaggi automatici, le nostre intuizioni morali ci ingannino. Però che cosa si intende per settaggi morali? Qui devo aprire un po' una parentesi. Ripresciandomi al famoso libro di Daniel Kahneman, il primo Nobel per l'economia nel 1911, il cui titolo è Pensieri lenti e pensieri veloci. Che cosa si intende per questa cosa qui? Si intende che i pensieri che si sviluppano all'interno della nostra mente sono veloci e lenti, dove per veloci si intende quelli che sono legati ai processi automatici, lenti quelli che sono, diciamo, legati più al razziocinio. Kahneman, diciamo così, chiama questi due diversi tipi di pensieri l'individuo come sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 intende i pensieri automatici e il sistema 2, diciamo così, i pensieri lenti. Ovviamente non potrò parlare troppo un dettaglio di questa cosa. Qualche anno fa, quando feci una conferenza sulla ricerca della felicità, parlai più estensamente di questi problemi. In particolare, riguardo ai pensieri lenti e ai pensieri veloci, usai la metafora del mammut e del rider, del guidatore. Perché? Perché il mammut sta a individuare quali sono i pensieri veloci, mentre il rider, il guidatore e quelli che sono i pensieri lenti. Innanzitutto, perché c'è queste due diverse figure? Che cosa c'è dietro questa metafora? Il fatto di parlare di mammut, innanzitutto pensi a una cosa grossa, mentre il rider è una cosa piccolina. Quindi vuol dire che i settaggi automatici sono tanti. La maggior parte dei pensieri, dei processi mentali, sono processi automatici, oltre il 90%. Quindi ti dice che le dimensioni del problema, della situazione, insomma, qui gli automatici è bello grosso. Poi il fatto che è un mammut ti dice che è antico. E quindi questi processi sono nati dagli albori, quando si è sviluppato tutto il processo mentale. Il fatto che quello che ha la possibilità di usare il razzocino, il rider, il guidatore, non è che può fare tanto, nel senso che se lui scendesse, e che fa? Che si metta a spingere il mammut per fargli fare quello che vuole? Ora, l'uso della parola spinta non è a caso, perché c'è un bellissimo libro, che si intitola Nuge, che vuol dire spinta in inglese, La spinta gentile, di Sustan e Thaler, due psicologi, che ti dicono quali sono i trucchi per poter fare in modo che questo mammut segue i tuoi comandi, diciamo, abbastanza docilmente. Bene, quindi con questa cosa in mente, spero di aver chiarito un po' che cosa si intende per settaggi automatici, quindi tutto ciò che avviene in maniera automatica. Considerate che i pensieri automatici, quelli che vengono istintivi, sono velocissimi rispetto a quelli più riflessivi, e nella maggior parte dei casi vanno benissimo. Solo ci sono delle situazioni dove falliscono, e quando falliscono, falliscono in maniera miserabile, e quindi bisogna stare attenti quando si ha il dubbio di stare in una situazione dove la riflessione è importante, non fidarsi troppo della parte automatica del nostro ragionamento. Per esempio, i nostri settaggi automatici, le nostre intuizioni morali, ci ingannano in due modi, principalmente. Sono ipersensitive per cose che non sono moralmente rilevanti, per esempio, quanto riguarda i casi di peri morte, la razza dell'imputato è sempre rilevante, ma dal punto di vista morale, che importanza può avere la razza? Oppure sono iposensitive, quindi poco sensitive, per cose che invece sono moralmente rilevanti, come può essere, per esempio, l'età al tempo del crimine. In più, i nostri settaggi automatici sono tribali, parrocchiali, qui tribale è da intendersi in maniera un po' latano. Quindi, da una parte può essere tribù, intesa come, se si intendeva una volta, un gruppo piccolino di persone, oppure come una famiglia, oppure come una città, può essere una nazione, può essere persone più trasversali, che sono le persone che sono contro l'aborto, che si fa favore dell'aborto, ma queste fanno parte della tribù. Quindi, tribù è visto in un ampio piuttosto generico. E ciascuna tribù ha i suoi principi etici, la sua moralità, e non tutti possono essere ugualmente validi. In realtà, la moralità non è altro che un meccanismo che serve per facilitare la cooperazione, per sconfiggere quello che l'ecologista Ardyn intendeva come la tragedy of the commons, cioè la tragedia della proprietà privata, scusate, della proprietà pubblica. Infatti, la moralità non è altro, dal punto di vista psicologico, che una collezione di capacità e disposizioni, psicologico appunto, che insieme promuovono e stabilizzano un comportamento cooperativo. Quindi la cooperazione è il motivo per cui ci siamo evoluti, e per ottenerla il cervello ha sviluppato la moralità. Ora, conoscere come lo sviluppo evolutivo del nostro cervello abbia influenzato le nostre intuizioni morali è determinante per costruire una base comune che possa mediare la cooperazione tra le diverse tribù. Qui torneremo più in seguito, diciamo, su questo punto. Allora, adesso io condivido uno schermo perché presenterò alcune immagini. Aspetta un secondo, vediamo una cosa, ecco. Perfetto. Dovrebbe comparire una diapositiva con tre oleologi, no? Al centro. Ora, io presenterò otto scenari. Questi scenari sono piuttosto simili tra di loro. La differenza degli scenari è importante perché si va a cambiare un piccolo aspetto che è proprio la cosa che si vuole studiare, no? Quindi si lascia tutto inalterato variando solamente un piccolo aspetto, così per vedere qual è la risposta. Questi problemi sono stati... Io presenterò questi scenari e poi vi dirò il risultato di questi scenari, cioè se questo scenario è stato accettato o meno da le persone. Questi esperimenti sono stati fatti, ovviamente non in Italia, ma sono stati fatti negli Stati Uniti e quindi vi dirò qual è la percentuale di persone che accetta questo scenario e quello che non è. Poi vedremo di motivare le conseguenze, le risposte di questo, insomma. Qui, se fossimo in presenza, sarebbe interessante perché uno potrebbe, cosa so, portare carta e penna, no? E vedere su ogni scenari, ognuno alza la mano e dice, ah, sono favorevole, sono contrario, per avere una sorta di indagine che da un punto di vista statistico ha una valenza pari a zero, però potrebbe essere divertente, alla fine, no? Potrebbe essere un'occasione per fare due chiacchi. Comunque sia, ciascuno di voi può sempre fare questa cosa qui, si segna da una parte questi scenari e dice immediatamente, perché deve essere una risposta automatica, qual è la sua reazione, se dici di accertarlo oppure no, per avere poi un resoconto, per fare un confronto un po' con quelli che sono invece i risultati standard, no? Allora, vediamo allora il primo scenario. Il primo scenario che lo chiamiamo il dilemma del food bridge. Ora, io lascio i nomi, il nome in inglese, il food bridge, per due motivi. Il primo è perché, secondo me, i nomi delle persone in particolare, ma anche i nomi delle cose, dovrebbero essere lasciati in una lingua originaria se non ci sono motivi particolari. Allora, il dilemma del food bridge, cioè il dilemma del ponte, consiste in questo. Ci abbiamo un binario e su questo binario ci abbiamo un trolley, un trolley che sta andando ad una certa velocità. Lungo questo binario, dopo un po' di spazio, vediamo che ci sono cinque persone che stanno lavorando su questo binario. Ora, queste persone stanno di spalle, non sentono il rumore, quindi se non succede niente, questo trolley prende e lo uccide tutti i cinque. Però, tra il trolley e queste cinque persone, c'è questo ponte, questa passerella. Scusa, è un vagone, giusto, scusami, il trolley è un vagone ferroviario. È un vagone. È un vagone ferroviario. Ecco, è importante, perché magari trolley potrebbe essere anche una valigia. Una valigia. Una valigia. Vabbè. Quello è un trolley con le rodelline. Questo è un trolley che fa sui binari. Allora, noi ci troviamo sopra questo ponte e davanti a noi, vedete dove sta questa banderina, c'è un uomo che ha uno zaino sulle spalle. Allora, qui lo scenario è che l'unico modo per salvare queste cinque persone è che noi spingiamo questa persona che sta sul ponte. Questa persona casca in corrispondenza del binario, quando casca il trolley va ad impattare la persona e lo zaino e dato che la persona è grande e pure lo zaino riesce a fermare il trolley e quindi il trolley si frema e le cinque persone si salvano. Però l'uomo che è stato buttato giù muore, insomma. Allora, è moralmente accettabile salvare le cinque persone spingendo verso la morte questo stagnero? Questo è il primo dilemma. No, 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 mi oppongo. Questo è che succede. Dipende chi è lo straniero. Chi è lo straniero questo? Allora, in questa situazione, ve lo dico subito, non ci stanno nomi che possiamo associare a queste persone. Questi sono tutti incogniti. E non ci sta il fatto di dire ma si casca giù ma poi è sicuro che si ferma oppure non ci sta un'altra possibilità. No, la situazione è questa, non ci stanno chance. Qui o ne muore uno o ne muoiono cinque. Non ci stanno alternative. Non ci stanno sconti logici. Questo è il punto. Sennò il dilemma non sarebbe così radicale. Non c'è un'altra possibilità. No, no. Vediamo una piccola variante di questo problema. L'altro lo chiamiamo il dilemma dello switch. In questa qua, la differenza qual è? Abbiamo sempre il trolley che procede lungo la corsa, no? E che ci sono le cinque persone dritte se non succede niente. Adesso noi abbiamo la possibilità di azionare uno switch che farà deviare questo trolley su un binario morto e cosicché le cinque persone vengono salvate. Però purtroppo sul binario morto c'è una persona e quindi questa persona verrà uccisa. Ora è accettabile utilizzare lo switch per deviare il trolley per salvare queste cinque persone? Allora vi dico subito. Potrebbe spostare questo cristiano qui se no purtroppo no. Allora per i risultati allora gli risultati sono che il dilemma del food bridge dà una percentuale di accettazione del 31% cioè il 31% delle persone dice sì è giusto uccidere diciamo così uccidere questa persona per salvarne i cinque mentre il restante quindi il 69% dice no. Mentre nello switch l'87% delle persone dice che è accettabile utilizzare lo switch per salvare le cinque persone e accettare questo. Allora il problema è per quale motivo il problema del ponte colpisce le nostre emozioni e invece quello dello switch no. Questa è un po' la cosa la cosa curiosa. Vediamo adesso delle varianti. Allora prima di andare delle varianti tanto per allergirsi scusa prima però giustamente tu hai fatto una domanda io adesso faccio qui c'è il nostro Daniele che ha fatto una riflessione dice perché sul ponte tu lo spingi materialmente questo questa persona invece lì azioni portando una leva giusto? Vediamo più avanti quale sono tutte queste sottigliezze ci sono otte esempi apposta perché si vanno a toccare anche questi questi aspetti di questa cosa. Bene a questo punto prima di procedere con gli ulteriori dilemmi vorrei diciamo così fare un esempio di un tipo di lo stesso tipo però di un altro argomento in un certo senso. Allora per valere i problemi del troll in realtà sono nati per dare per mettere in una luce più come dire più più universale un un esempio classico che viene che viene utilizzato sempre dai detrattori dell'utilitarismo per mostrare che l'utilitarismo è una filosofia che non va bene come scelta etica. Ovviamente i problemi di questo tipo il problema del ponte il problema del speech sono dei problemi tipicamente utilitaristici qui si salva si salvano cinque persone per ucciderne una. Ora da un punto di vista di una filosofia invece normativa una filosofia che procede a partire da principi primi una filosofia di normativa solitamente la persona non si uccide mai non è mai ammissibile una cosa del genere e quindi però in una situazione di questo tipo possiamo scegliere se uccidere o non uccidere qualcuno muore comunque sia solitamente la scelta che una persona fa di questo tipo una persona che si segue una filosofia normativa è quella di dire non faccio niente cioè prediligere la non azione all'azione secondo un principio che sembra accettato ma non è scritto da nessuna parte che regare male facendo un facendo un'azione è peggiore invece di fare male lasciando che una cosa accada senza fare niente su questo ci torniamo ci torniamo più avanti su questo fatto su questa dottrina del fare e del permettere allora vi parlavo che qual è l'esempio a cui mi riferivo allora solitamente uno degli esempi che viene portato classico per far vedere che l'utilitarismo è una filosofia malsana dal punto di vista etico è quella del donatore di organi allora funziona così diciamo c'è una persona che va in ospedale a fare un controllo di routine allora quando gli viene preso il sangue il dottore che fa questa analisi si accorge che dall'analisi del sangue questo donatore è compatibile con altri 5 pazienti che stanno in lista di attesa per ricevere un organo e morirebbero a breve se non ricevono questo organo e quindi che cosa succede che prendono questo malcapitato gli tolgono questi 5 organi li danno a questi 5 malati che si salvano quindi si salvano 5 vite però si uccide questa persona che arriva allora i dirattori dell'utilitarismo dicono sì da punto di vista utilitaristico se ne salvano 5 per salvare uno e quindi l'utilitarismo non va bene ovviamente un modo di procedere così è piuttosto fazioso perché è vero che l'utilitarismo dice che bisogna scegliere l'azione la conseguenza migliore però bisogna guardare tutte le possibili conseguenze non una soltanto in questo caso c'è una conseguenza che facendo in questo modo si salvano 5 persone 5 malati e se ne uccide uno ma c'è anche il fatto che se questa cosa avvenisse davvero una persona che va all'ospedale non ci va più tanto di uno e dice ma mi potrebbe capitare una cosa come questa qua e il danno che si fa per questo qua è molto maggiore di queste 4 vite che vengono salvate in più uno potrebbe dire sì ma potremmo ottenere una cosa nascosta e quindi fare una sorta di congiura a livello che diventa via via più grande però innanzitutto queste sorte di congiure riescono a durare nel tempo se so costruire da poche persone e poi prima o poi si scoprono comunque sia ci potrebbe essere una persona un parente che va a cercarlo sapeva che andava in ospedale e quindi come si fa a giustificare questa cosa qui allora sempre i detrattori dell'utilitarismo potrebbero dire sì ma allora questa persona non conosce nessuno quindi è un povero disgraziato che non ha famiglia non ha niente quindi nessuno richiede così via e uno va avanti in questo modo cercando di sostanzialmente tirare fuori da quest'esempio di tutte queste informazioni e astraendo alla fine ci ottiene un qualcosa che è simile al problema del trolley in realtà il problema del trolley è stato è stata un'alternativa a un problema di questo tipo perché qui sembrava che fare questo esempio con gli organi così fosse veramente molto molto forte dal punto di vista psicologico mentre col problema del trolley si si astrae un po' sembra che il problema si possa esprimere in una maniera meno viziata in qualche modo bene ho fatto un po' una piccola diversione ho fatto un esempio così per leggere un po' la lezione adesso riprendiamo con con alcune varianti del problema del fruit bridge e del problema dello switch che sono quelle basi quindi il fruit bridge è quella che colpisce sensi e lo switch invece è quella che non colpisce sensi bene lo scenario successivo è quello che si chiama il problema del ponte remoto il problema del ponte remoto che ha una percentuale di accettazione comunque è sempre abbastanza alta 60% allora in che cosa consiste il problema remoto consiste sul fatto che noi ci troviamo su uno switch che sta lontano dalla vittima che sta lontano dalla vittima e quindi con questo switch si riesce ad aprire una botola che si trova sotto dove si sta la persona che ha lo zaino e questo lo lascia cadere sul ponte che blocca il troll e via via quello che è successo prima sostanzialmente quindi prima col fruit bridge si spingeva questo qui a terra e non veniva accettato solo il 30% accettava adesso con questo switch da lontano che fa questa botola sembra che la cosa sia più accettabile perché c'è un miglioramento nella percentuale di accettazione vediamo un'olteriore variante il fruit bridge switch un mix dei nomi stavolta ora qui l'unica differenza è come sostanzialmente quello di prima solo che lo switch si trova vicino alla vittima prima ci troviamo lontano adesso ci troviamo vicino come vedete la percentuale di accettazione cala di poco prima era 63 ora siamo al 59 comunque sia continua ad essere accettabile questo ci dice che la distanza a cui ci troviamo dalla vittima conta poco in realtà conta veramente poco vediamo adesso un esempio più interessante che è il fruit bridge pole cioè noi ci troviamo sempre stavolta sempre sulla passerella come all'inizio e abbiamo un bastone un pollo è un bastone e con questo bastone buttiamo giù questo malcapitato per bloccare il fondo quindi prima lo spingevamo adesso invece lo tocciamo col bastone la percentuale la prestazione è il 33% quindi vuol dire che non conta tanto toccare la persona perché stavolta non la tocchiamo abbiamo il bastone ma quello che conta è l'uso della forza personale secondo queste analisi il fatto che con violenza operiamo contro questo questo malcapitato ora l'uso della forza personale non è moralmente rilevante però sembra psicologicamente rilevante un'altra differenza tra il fruit bridge e lo switch dei primi due esempi è che in un caso nel fruit bridge il danno viene causato come un mezzo per un fine mentre nel caso dello switch come effetto collaterale ora questa distinzione tra mezzo e effetto collaterale risale almeno a Tommaso D'Aguino quindi parliamo del XIII secolo con la dottrina del doppio effetto ora secondo questa dottrina è permesso fare del male a qualcuno come effetto collaterale per ottenere un buon fine ma non come un mezzo per un fine ora i nostri settaggi automatici sembrano sensibili alla distinzione mezzo effetto collaterale e questo basta spiegare la differenza tra i responsi nei due casi vediamo ancora ulteriori esempi prima di altri esempi facciamo una slide riassuntiva dei cinque scenari che abbiamo visto finora quindi fruit bridge e switch i primi due 31% 87% poi il problema del ponte remoto che stiamo lontano dalla vittima sempre accettabile il problema del ponte con lo switch che stiamo vicino alla vittima sempre accettabile e poi il problema del ponte con il bastone che non è accettabile come il problema del ponte originale l'esempio successivo è quello che chiamiamo obstacle collide il problema dell'ostacolo in un certo senso qui si usa la forza personale ma la vittima viene danneggiata come effetto collaterale allora che cosa consiste qui la situazione adesso ci sta sempre il trolley che se procedesse dritto nella sua strada andrebbe a uccidere le cinque persone che stanno sul binario però c'è la possibilità di avere di deviare questo trolley sul binario secondario allora per poter far ciò bisogna agire su uno switch allora lo switch si trova sopra la passarella noi però ci troviamo tra l'uomo e la passarella cioè l'uomo che dovrebbe cadere sui binari si trova tra lo switch e noi sostanzialmente quindi per poter arrivare allo switch pazio e quindi buttare l'uomo per terra per poter arrivare allo switch bene la percentuale di accettazione è l'81% quindi sembra accettabile buttarlo giù in questo caso per poter arrivare allo switch bene l'esempio successivo è il problema del lupo allora qui ci troviamo in una situazione dove la vittima viene ancora usata come mezzo stavolta cioè abbiamo sempre il trolley che se procedesse dritto andrebbe a eccitare cinque persone poi abbiamo la possibilità di metterlo su un binario secondario stavolta però sto parlando secondario non è un binario morto è un binario che tornerebbe sul binario principale andando a uccidere cinque persone quindi bisogna bloccarlo in qualche modo allora noi ci troviamo su uno switch che sta lontano da tutta la situazione applicando questo switch noi facciamo deviare questo trolley qui c'è una persona su questo binario secondario che è però un loop che blocca il trolley e quindi salva le cinque persone in questo caso anche se la vittima viene usata come mezzo la percentuale di accettazione è alta 81% quasi massima rispetto come quella dello switch e infine l'ultimo esempio che presento collision all'arma che consiste in questo qui abbiamo due scenari abbiamo un trolley che procede dritto verso cinque persone che saranno uccise se non succede niente poi abbiamo un secondo trolley che se proseguisse dritto non succederebbe niente quindi ammazziamo sempre cinque persone se invece lo facciamo deviare su questo binario secondario applicando uno switch in questo binario secondario si va a colpire una persona che muore però l'impatto va a colpire un sensore di allarma che blocca il primo trolley quindi salva le cinque persone questa è un po' più complicata è qui la situazione bene la percentuale eccitazione è comunque alta 86% quindi complessivamente che cosa possiamo dedurre da tutta questa cosa che cosa c'è di strano allora sembra che i due fattori che determinano il giudizio delle persone giudizio istintivo delle persone siano l'applicazione della forza personale e l'uso della persona come mezzo però sembrano inconsistenti perché la forza personale conta per il problema del footbridge switch contro il problema del footbridge con il bastone però non conta nello switch contro il problema dell'obstacle con light mentre il mezzo utilizzare la persona come mezzo invece di utilizzarla come effetto colaterale conta nell'obstacle con light contro il footbridge però non conta con lo switch rispetto al loop al collision all'arma quindi sembra che quello che è importante non è tanto il mezzo o l'usare la forza personale ma la combinazione di questi due fettori quindi c'è un'intersezione quindi sembra che i nostri sensi non siano tanto affidabili ora l'idea che uccidere qualcuno come mezzo sia peggiore che ucciderlo come effetto colaterale è largamente accettato ma la dottrina a doppio effetto non ha giustificazioni teoriche a parte l'essere parzialmente accettato dai nostri sensi quindi ciò ci dice che il nostro giudizio intuitivo viene prima e che la dottrina è solo un imperfetto resoconto dei nostri giudizi intuitivi quindi è il nostro intuito morale che giustifica il principio e non le viceversa ora la teoria che spiega perché il nostro cervello morale è sensibile alla distinzione effetto collaterale mezzo si chiama miopia modulare e qui arrivano le cose interessanti e riguarda come la mente rappresenta le azioni ora il cervello ha un sottosistema cognitivo un modulo che monitora i nostri piani comportamentali e attiva un allarme quando contempliamo di danneggiare altre persone ora questo sistema di allarme è miopico perché risulta cieco ai danni derivanti dagli effetti collaterali quindi siamo ciechi emozionalmente ma non cognitivamente quindi vuol dire che siamo ciechi per il sistema 1 ma non per il sistema 2 siamo ciechi per il mammut ma non per il driver perché nel caso della nostra evoluzione abbiamo acquisito la capacità di ragionamento e progettazione che ci ha permesso di uccidere per esempio a grossi animali con attacchi coordinati oppure piazzando trappole di costruire rifugi migliori di piantare semi con l'intenzione di raccogliere frutti e così via ma questo ha aperto anche la porta alla violenza premeditata la violenza ora non è più motivata da un motivo presente ma viene utilizzata come un oggetto di scopo per ottenere quello che si vuole ora che c'è di male nella nostra capacità di violenza non ci sarebbe niente di male se vivessimo isolati ma viviamo in gruppi e gli uomini che sono attaccati tendono a reciprocare con un grosso spirito di vendetta dunque i gruppi più docili hanno avuto dei vantaggi evolutivi quindi il modulo il modulo miobbico serve a tenere a freno la nostra violenza ma questi moduli sono delle euristiche che si possono ingannare come per esempio il modulo dell'amigdala che riconosce la paura nelle facce basandoci solo sull'ingrandimento della parte bianca dell'occhio ora come funziona il modulo miobbico il cervello umano rappresenta le azioni in termini di piani di azione ramificati ogni piano di azione è un ramo principale che comincia con il movimento del corpo della gente e che termina con l'obiettivo della gente il ramo principale consiste della sequenza di eventi che è necessaria per raggiungere l'obiettivo per esempio nello switch la gente muove le mani che causano il movimento dello switch che permette lo scambio del trolley che va sul binario secondario invece di rimanere su quello principale salvando la vita a cinque persone nel footbridge la gente muove le mani che fanno cadere la vittima che a terra sul binario che ostacola il trolley che si ferma e cinque persone vengono a salvare ora i piani di azione possono anche avere rami secondari per esempio nello switch la deliazione del trolley ha due effetti doppio effetto causa l'obiettivo cioè le cinque persone salve ma anche un effetto collaterale una persona morta sui binari questo evento è un ramo secondario perché la gente si aspetta caccata ma l'evento non è necessario il ragionamento dell'obiettivo infatti se la vittima sparisse tanto meglio io toglierei la diapositiva perché tanto non mi serve più così ritorniamo vediamo ecco ora il modulo miopico vede solo gli eventi che sono necessari al raggiungimento dell'obiettivo solo il ramo principale perché perché ciò è cognitivamente dispendioso per rappresentare le ramificazioni secondarie ci vuole un tipo di memoria più sofisticata che noi ci abbiamo però è la memoria che ha il sistema 2 non il sistema 1 quindi se noi analizziamo questa cosa con il sistema 1 andiamo dritti dritti seguendo il modulo miopico che ci inganna l'altra dottrina che andrebbe sfatata come anticipavamo prima dell'introduzione è la dottrina del fare e del permettere cioè i danni causati da lazioni da cose che facciamo attivamente sono peggiori dei danni causati da omissioni per esempio non è accettabile che un dottore termini la vita di un paziente attivamente ma è accettabile se permette al paziente di morire in alcune circostanze ora per un neutralista per un conseguenzalista cioè però per uno per il quale contano le conseguenze di un'azione non c'è distinzione tra fare e permettere come nella distinzione mezzo effetto collaterale questa distinzione si giustifica solo in base ai nostri meccanismi cognitivi di base che non hanno nulla a che fare con la morale per esempio un animale deve prediligere le azioni alle omissioni perché le azioni sono relativamente poche ma le cose che non si fanno sono troppe questo non vuol dire che il cervello non può pensare alle omissioni ma che esse vengono rappresentate in modo diverso la rappresentazione la rappresentazione delle azioni è più semplice ed accessibile cioè in sostanza per rappresentare le omissioni ci vuole il sistema 2 nel sistema pensante ora quando gli esseri rimani distinguono le azioni delle omissioni nei loro giudizi morali questo è il risultato dei settaggi automatici e non è il risultato dell'applicazione di un fantomatica dottrina del fare del permettere utilizzata al modo manuale del cervello ora ignorare la distinzione azione e omissione richiede molto modo manuale molto modo razionale perché le omissioni sono inerentemente astratte mentre le azioni possono essere rappresentate in modo semplice per esempio risulta facile disegnare qualcuno che corre ma qualcuno che non corre non è che basta disegno qualcuno che corre e metto uno che sta seduto no quello è uno che sta seduto non è uno che non corre uno che non corre è uno che non fa qualunque cosa che non consiste nella corsa è più complicato no inoltre le azioni hanno una rappresentazione sensoriale naturale anche motoria per esempio se noi leggiamo le parole leccare prendere calciare automaticamente attiviamo delle zone della corteccia motoria che controllano rispettivamente la lingua le dita i piedi ma non c'è nessuna parte del cervello adibida a rappresentare le azioni che non coinvolgono una lingua per esempio quindi le omissioni al contrario delle azioni non attivano alcun risponso emotivo quindi la distinzione tra azione e missione non ha l'una che vedere con la moralità ma è semplicemente un sottoprodotto cognitivo allora qual è la conclusione di tutto questo discorso ora essere ragionevoli ed aperti al compromesso non è abbastanza per risolvere quello che viene denominato il problema della tragedia della morale del senso comune adesso faccio un'altra chiacchiacchiera per leggere un po' il discorso che cosa si intende con questa tragedia della morale del senso comune io ho visto che la moralità serve per risolvere il problema la tragedia della proprietà pubblica ora ciascuna morale in realtà non possiamo dire che c'è una morale che è migliore dell'altra perché ciascuna ha avuto il suo scopo cioè quello di garantire la collaborazione tra le persone se vogliamo fare un discorso di merito bisogna introdurre una sorta di valuta condivisa per poter delle valuture non possiamo solamente dire questo la pensa diversa da noi e quindi sbaglia la sua morale è errata allora questa cosa viene semplificata con la tragedia della morale del senso comune la tragedia la possiamo esprimere facendo questa storiella supponiamo di avere di avere quattro quattro tribù di allevatori di bestiame che vivono in maniera abbastanza semplice e queste quattro tribù vivono tra di loro separate stanno vicine ma sono separate in realtà sono separate da un bosco molto grande quindi abbiamo nord sud est ovest queste quattro tribù e tra di loro c'è un bosco enorme così fitto che non permette quindi la comunicazione tra queste tribù allora queste tribù come si comportano allora ci abbiamo a est una tribù dove diciamo così vengono allevati tutti gli animali in comunità e ciascuna famiglia di questa tribù ha lo stesso numero di animali ovviamente quando ci sta un qualche un qualche evento di divisivo c'è una sorta di consiglio che derime un po' questi problemi qui il problema è che dato che ciascuna famiglia ha lo stesso numero di animali e ci sono famiglie che sono molto numerose altre meno quelle che c'hanno meno c'hanno più animali quindi qualcuno si lamenta per questo però alla fin fine questo tipo questo tipo di di strategia ha avuto il risultato che questa tribù si è sviluppata e quindi ha collaborato ha collaborato alla fin fine insomma a ovest invece abbiamo una tribù che similmente alleva il bestiame ancora in comunità quindi tutti quanti insieme però stavolta ogni famiglia non c'ha lo stesso numero di di bestie di bestiame ma il bestiame viene associato alla numerosità della famiglia quindi le famiglie più numerose sono quelle che hanno più animali qui vorrebbe capitare qualche volta che non so che uno riceve una disgrazia muore qualche elemento della famiglia e quindi devono anche disfarsi di un po' di animali perché sono un numero inferiore e quindi se lamentano in qualche modo quindi anche qui ci sono delle cose da dirimere quindi c'è sta un comitato che viene eletto dai capi tribù diciamo capi famiglia che diriva un po' queste questioni e come nel caso dei altri che stava a testa anche questi sono riusciti a sopravvivere a collaborare tra di loro poi abbiamo a nord un'altra un'altra tribù anzi scusate prima facciamo la sud facciamo la tribù che sta a sud che è una tribù dove la comunità viene portata a livello estremo perché qui non solo gli animali stanno insieme ma anche tutte le famiglie vivono insieme perché è tutta una grande comunità è una comunità dove tutti vivono felici beh no perché c'è sta qualche lavativo dato che qui non è indispensabile che tutti i quanti lavorano con la stessa lega ma c'è qualcuno che se la profitta un po' e quindi qualcuno si lamenta però la maggior parte delle persone lavora e quindi la società diciamo così prospera anche qui c'è un consiglio che ovviamente è ancora più corposo delle altre due situazioni perché qui è tutte in comunità infine abbiamo la tribù che sta al nord che invece è una tribù estremamente individualista qui non fanno niente in comune ciascuno ha le sue bestie e il numero delle bestie dipende da quello che può ottenere quanto è bravo ad allevarle ovviamente ciascuno ha la sua recensione perché così può tenere sotto occhio la sua bestie e così via anche qui può accadere che qualcuno faccia delle scelte difficili e quindi che qualcuno magari soffra la fame in certi periodi eccetera però se uno si trovasse per esempio in una delle altre tribù uno potrebbe dire vabbè la comunità potrebbe dire diamo a questa persona che sta così in disgrazia un po' d'aiuto invece al nord questa cosa qui non viene accettata perché loro non vogliono essere costretti ad aiutare le persone alla fine non lasciano morire i propri simili però non vogliono essere costretti vogliono scegliere di aiutare e non essere costretti a farlo anche questa tribù è riuscire a sopravvivere quindi ci abbiamo quattro tipi diversi di moralità di principi tutti quanti ugualmente validi nel senso che hanno soddisfatto quella che era l'esigenza primaria cioè quella di far comunicare collaborare le persone bene in questo quadretto idilliaco succede una cosa imprevista allora c'è una grande tempesta un fulmine colpisce questo bosco che prende fuoco durante la notte c'è tutto questo bosco che prende fuoco un fuoco spettacolare alla fine fine la mattina si svegliano tutti quanti e il fuoco ha bruciato tutto il bosco e quindi questi 4 tribù si guardano in faccia e si dice ma chi sono questi perché non li ho visti mai in particolare al centro di questa situazione immaginando da un punto di vista geografico al centro c'è un sacco di terreno fertile e libero da poter fare allora che cosa succede quelli del sud fanno dai siamo tutti una famiglia dividiamo questa cosa qua e andiamo tutti quanti quindi ce lo dividiamo tra tutti quanti quelli al nord dicono ah no ognuno fa per sé quindi ognuno va là quindi la mattina si sveglia e ciascuno allarga un po' la sua recensione per permettere good terra e così via magari ci capita che dato che quelli del sud vogliono occupare oltre la terra c'è sta qualche animale che finisce nella zona di uno di quelli del nord e questo la catturano e quelli del sud per ripicca vanno là e distruggono la recensione quelli del nord e tornano indietro vanno al sud e catturano due bestie quelli del sud fanno la spedizione di politica e così via per farla breve da qui a scoppiare la guerra ci vuole poco a rendere le cose ancora più complicate è che in lontananza si vede una piccola nuvoletta arrivano un po' di persone un po' di malcapitale con un po' di animali tutti i mezzi teperivi e dice possiamo partecipare possiamo venire anche noi perché veniamo dalla terra lontana non sappiamo che fa e tu dici mettiamoci insieme avanti lo spazio cieco e il nord ah no noi stranieri non li vogliamo mentre succede questa diatriba si vede un altro nuvolone grosso una grossa tribù che arriva quando arriva al centro pianta una bandiera al telo e dice questa è la terra nostra promessa tutti quanti li guardano ma che è stata a dire come la terra nostra ma dove sta scritto ma come c'è scritto sta scritto sui nostri libri sacri e così via ah questo scusate c'è sto in tutta questa situazione questo per farvi capire insomma che se vengono a contrasto un sacco di tribù e ciascuna vuole mantenere la sua identità scoppia una guerra e questa è quella che si intende per la tragedia della morale del senso comune spero di aver reso la cosa più chiara con un esempio per esempio la panna adesso vediamo cosa ci facciamo allora la cosa importante quindi è risolvere la tragedia della morale del senso comune questo è un problema che abbiamo attuale pensiamo adesso dove con la globalità non abbiamo più frontiere possiamo avere contatti con chiunque che ha una moralità diversa dalla nostra questo è un problema serio che non possiamo affrontare dicendo loro rimangono a casa loro o la loro ma loro sono selvaggi e noi no perché è una cosa che non funziona così allora quello che ci vorrebbe è una filosofia morale esplicita e coerente che ci faccia da guida quando non ci possiamo fidare dei nostri sentimenti ma come ci accorgiamo che dobbiamo smettere di fidarci dei nostri sentimenti beh innanzitutto quando c'è una controversia quando interi tribù sono in disaccordo allora in questi casi ci dobbiamo fermare e pensare a fondo ora questa sembra una bella idea ma qual è il problema è che il nostro primo istinto è pensare ai modi in cui noi siamo nel giusto e loro no come evitarlo questo ecco i problemi morali sono molto controversi e spesso molto complicati in un mondo ideale ci trasformeremo tutti in esperti e faremo i nostri giudizi in modo consapevole questa sarebbe la cosa perfetta ma poiché questo non avverrà mai come i socratici dobbiamo cercare di diventare più saggi ammettendo la nostra ignoranza allora qui vi do un paio di indicazioni un paio di indicazioni che aiutano quindi a derimere un po' questa tragedia della morale del senso comune la prima strategia è quella che viene chiamata l'illusione della spiegazione profonda cosa si intende per questo ora le persone di solito pensano di capire come funzionano le cose anche quando non lo sanno prendete ad esempio la sanità ma anche cose più semplici come la tua letta la zip eccetera ora il modo migliore per far sì che il nostro modo manuale ci avvicini quindi il sistema 2 non è forzare le persone a giustificare le proprie decisioni con ragioni esplicite perché se noi forziamo le persone a prendere decisioni sostanzialmente queste persone ci raccontano un sacco di stupidaggini adesso vedremo perché ma forzare le persone a confrontarsi con la propria ignoranza dei fatti essenziali questo ci rende più moderati infatti il nostro problema è che noi siamo degli ottimi confabulatori ora la confabulazione consiste nell'inventare storie in qualche modo allora queste cose qui anche quando feci sempre citando la lezione fatta sulla ricerca della felicità queste cose sono state scoperte negli anni 60 studiando i pazienti che avevano il corpo galloso reciso quindi recitando il corpo galloso le due parti del cervello sinistra e terza vengono separate e la persona sostanzialmente ha due personalità distinte due persone completamente distinte ora il punto è che ci sono delle cose che noi facciamo con una parte del cervello e delle cose le facciamo con altre per esempio a rendere le cose lo prendiamo con la parte sinistra per le persone destrose il linguaggio lo prendiamo con la parte destra del cervello ora in certe situazioni per dare una spiegazione dobbiamo utilizzare il linguaggio quindi la parte destra che può dare delle spiegazioni ma se l'azione l'ha fatta la parte sinistra non ne sa niente la parte destra di cui l'ha fatta la sinistra cioè se la mano sinistra ha preso la mela per dire la testa che si va inventando non lo sa perché allora si deve inventare la storia e la confabula ora è stato visto che la confabulazione non la fanno solamente chi ha il corpo galloso reciso ma la fanno tutti più o meno questo è il problema ora l'equivalente morale della confabulazione è la razionalizzazione ora il confabulatore percepisce che sta facendo qualcosa e fabbrica una storia ad hoc che suona razionale circa ciò che sta facendo e perché lo fa quindi il razionalizzatore morale sente l'istinto di un determinato atteggiamento morale e crea una storia che suona razionale per giustificarlo qui faccio un esempio lampante di un classico razionalizzatore morale Kant per esempio Kant cerca di spiegare perché la masturbazione è una violazione dell'imperativo categorico la suprema legge morale riferendosi alla dottrina del doppio effetto deriva che certe azioni sono sbagliate perché coinvolgono l'usare qualcuno come mezzo in questo caso se stessi ora chi non condivide i costumi sessualmente repressi di Kant come Nietzsche si diverta l'idea di Kant di derivare l'immoralità della masturbazione dei principi astratti cioè Kant ha gli stessi automatismi della tribù che lo circonda ma lui sente la necessità di provvedere ad una esoterica giustificazione per i propri pregiudizi popolari tanto per reinventarsi esoteriche giustificazioni Kant è la propone una teoria per giustificare la superiorità dei bianchi e l'inferiorità dei neri per esempio che chiama i nostri squavi tanto per fare un esempio la seconda strategia per poter aiutare nel problema della ragione del senso comune è quello di evitare di ricorrere ai diritti allora il ricorrere ai diritti per dirimere una questione morale funziona un po' come un jolly che rende l'inividenza irrilevante ora si può sempre invocare un diritto che corrisponde ai nostri sentimenti nel caso dell'aborto per esempio i pro-life cioè quelli che sono contro invogano il diritto alla vita quelli che invece sono a favore i cosiddetti pro-choice invogano un diritto di scelta se mettiamo contro il diritto della vita il diritto di scelta si cozza contro l'altro e basta non c'è stato dialogo ora i diritti d'oreri sono le armi perfette per i moderni dibattiti morali i nostri settaggi automatici seguono comandi morali che ci dicono cosa deve essere fatto quindi diritti e cosa deve diciamo cosa non deve essere fatto quindi il diritto e cosa invece deve essere fatto quindi il dovere per esempio nel dilemma del footbridge abbiamo diritto alla vita nello switch i diritti dei cinque superano quelli della vittima ora i diritti e i doveri ci permettono di presentare i nostri sentimenti come fatti non negoziabili ora appellarsi diritti evita quindi quel duro lavoro di provvedere ad una reale giustificazione per quello che vogliamo ora perché appellarci al fatto che si promuove un bene più grande e differente quindi quando mi dico rivisco a questo mi rivisco all'utilitarismo quindi avere quindi delle buone conseguenze perché questa affermazione può essere giustificata con l'evidenza per esempio stabilire se una certa politica incrementa o no la felicità ad esempio è una questione empirica se uno invece dice che l'assicurazione sanitaria migliorerà distruggerà la sanità ora questo si riferisce soprattutto alla sanità americana ma questa si può riportare alla sanità di qualunque paese e uno dovrebbe avere evidenza di questo innanzitutto tutti dovrebbero capire come funziona l'assicurazione sanitaria poi valutare come i diversi sistemi di sanità funzionano e che risultati hanno avuto in altri paesi vedere se i cittadini sono soddisfatti intervistarli se sono soddisfatti della sanità se vivono più a lungo se sono più felici a tutte queste domande si può replicare con delle evidenze con dei fatti con dei risultati lo stesso non può essere detto per i diritti se ci appelliamo ai diritti non risolviamo la questione ma è un po' come pretendere che la questione sia stagiata risolta in qualche astratto luogo accessibile solo a noi e alla nostra tribù ovviamente ci sono delle eccezioni ora discutere sui diritti non porta da nessuna parte quasi sempre ma a volte anche il discutere senza senso ora decidere se impegnarsi o meno in una discussione con un'opponente è una decisione pragmatica che coinvolge costi e benefici alcuni argomenti non meritano di essere discussi per esempio alcune persone ritengono che i neri meritino di essere schiavizzati che alcune donne meritano di essere violentate e così via questi argomenti non meritano di essere discussi perché fanno parte di un senso comune che pur non essendo universale è però comune abbastanza per pratici scopi politici quindi quando si tratta di argomenti che sono stati davvero risolti assenza parlare di diritti perché il linguaggio di diritti in questo caso esprime un nostro fermo impegno morale e rigettare alcune posizioni senza discussioni in questi casi è bene perché il rischio di sbagliare è minore del rischio di non essere sufficientemente risoluti per esempio la schiavitù viola i diritti umani punto fine dell'escusione quindi concludendo noi vorremmo una teoria morale che desse la stessa risposta dei nostri settaggi automatici cioè vorremmo trovare una teoria che ci dica che le nostre intuizioni sono corrette e perché lo siamo cioè una teoria che organizza e giustifichi le nostre sensazioni emotive per dirla in termini Rawlsiani da John Rawls famoso politolico e filosofo del ventesimo secolo vogliamo trovare un equilibrio riflesso nel quale la nostra teoria morale si accordi con i nostri giudizi emozionali ma le nostre reazioni emotive non si sono sviluppate per essere organizzate e non necessariamente per servire come fini morali affidabili se noi filtriamo le nostre intuizioni morali prima di organizzarle eliminando le intuizioni prevenute i cosiddetti bias probabilmente si finisce con qualcosa tipo l'utilitarismo perché? perché le obiezioni valide contro l'utilitarismo dicono che in certi casi adesso fornisca delle soluzioni intuitivamente errate specialmente nei casi astratti ma si è visto che queste intuizioni antiutilitaristiche in realtà sono sensibili a cose moralmente irrilevanti inoltre che vorrebbe dire che le nostre intuizioni morali sono sensibili a cose moralmente rilevanti invece una possibilità è che esse servano a promuovere buone conseguenze e questo sembrerebbe suggerire che i nostri settaggi automatici siano degli strumenti utilitaristici imperfetti perché danno buone conseguenze no? oppure che significa invece che i settaggi automatici sono sensibili a cose moralmente rilevanti ma che non producono buone conseguenze un pensiero naturale è che esse risflettano cose come i diritti è male buttare un uomo dal ponte perché viola i suoi diritti ma come possiamo sapere se questo è vero senza una teoria indipendente non digitalistica cioè una che deriva da assiomi morali autovidenti e se invece i diritti siano solo una copertura per le nostre reazioni emotive quindi né descrivere i nostri settaggi automatici né provare a dimostrare che sono corretti che sono approcci filosofici che possono risolvere i moderni problemi morali della tragedia della morale del senso comune l'unico modo sembra quello di trascendere le limitazioni dei nostri settaggi automatici e lasciare il problema a mano al modo manuale al sistema 2 quindi non fidarci delle nostre sensibilità morali tribali né cercare di razionalizzarle ma di cercare dei valori comuni una sorta di sistema di valuta condivisa che al momento sembra non possa essere altro che l'utilitarismo beh io ho concluso qui